Ve ne ho parlato con il nube e a quanto pare ci ha trovato un nuovo cliente, abbiamo un'ottima notizia Ha detto che ha bisogno di una mano proprio urgentissima perché ha provato a costruirsi la casa da solo e non è andata molto bene Ovviamente Quindi dobbiamo dargli una mano, a quanto pare si tratta questa volta di una casa moderna Non ne abbiamo mai avuto a che fare, però secondo me ce la possiamo cavare Sarà divertente, dai Secondo me possiamo fare un bel lavoro Una casa diversa e pur se... chiudili la porta, Steph, che poi scappa, quello da non capisce mai nulla Ma dai, su Allora, mi ha detto che dovrebbe essere abbastanza vicino da queste parti Infatti credo di iniziare a vedere la casa Ok, ok Aspetta, dimmi che non è quella, ti prego Ma aveva detto casa moderna, sì? No, perché quello non è una casa moderna Steph, vieni qui dietro, Steph, prima che ci veda Ok, dimmi L'hai già intravisto, vero? No Guarda lì la faccia Ok, l'ho visto, l'ho visto Ora capisco perché è amico del nube No, beh, non mi aspettavo grandi cose Allora, da quello che vedo da qui, visto che ancora non ci siamo avvicinati Cioè, mi sembra che la forma ci possa anche stare, ma i blocchi, Steph Che ha combinato con quei blocchi Sembrava tipo un Danilo Secondo me è quello che ha trovato a me, Sofere Di quelle persone lì, capito? Cioè, pensi che è andato tipo in miniera un po' a togliere alberi E quello che ha trovato a me Allora, io ti dico una cosa Il nube aveva soldi Questo qua avrà soldi A noi non ci frega nulla Anzi, a proposito di soldi Ok, dimmi Io ho conservato nel mio portafoglio tutto quello che abbiamo guardato la scorsa volta Se vuoi sapere Abbiamo sette e banconote da cinquanta Tredici da venti Cinque da quattro E dodici da uno Quindi, ti dirò Non siamo messi malissimo Ovviamente, questi soldi li useremo per farci la nostra casa Eh, dicevo, li useremo per farci la nostra casa Sì, però serve ancora tanto Ancora tanti soldi Sì, 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 siamo davvero lontani Noi di caso ci tenevo a farti sapere Sono pronta, andiamo Andiamo Sicura? Mamma mia Ci parlo io? Sì, parlaci tutti Prego, perché Guarda, l'altra volta ci ho parlato io ed è stato un trauma Quindi vai tu, Stef Ti prego Ciao, potresti darmi una mano? Il mio più grande sogno è vivere in una casa moderna come quelle che si vedono in TV Ah, si spiega tutto, caro Drake Sì, la tua sembra quella di Maradona Quindi sei stato già bravissimo Ho provato a costruirmi adesso all'uomo non ci sono riuscito Meno male che te ne sei accorto Vi prego, aiutatemi Va bene, Drake Cioè, nel senso, alla fine non mi sembra un lavoro impossibile Basta radere solo la casa No, ti ripeto Secondo me la forma può rimanere questa Quindi basterà cambiare dei blocchi Secondo me ci portiamo a dare un bel po' di soldini Poco lavoro Allora, da qualche parte avrà messo i soldi che ci vuole dare Ecco, qui c'è una cesta Ok, ecco, c'è una cesta Infatti Ci sono un buono montare di soldi, Fer Non dovremmo avere problemi Allora, inizio ad acchiappare tutto Ok, prendi, prendi E andiamo dai nostri amici mercanti Allora, aspetta, Steph Ovviamente bisogna fare prima un'ispezione della casa Cioè, vediamo Ah, qui ha provato a fare un balcone Ma solo ha provato Avrà finito le fence, probabilmente Qui aveva finito i vetri Ma qui manca il soffitto, Steph Aspetta Cioè, cosa voleva? La visuale sulle stelle si è dimenticato di tappare Esatto, esatto Voleva fare le cose, capito E qui un secondo balcone è fatto nello stesso modo di quello Guarda, tu ci arrivi direttamente dalla finestra È vero È però comodo È però comodo È comodo, è comodo Devo essere sincero Sono un po' disorientato Non sono sicurissimo che i mercanti siano da questa parte Ma ho visto la casa del noob Sì, penso che sarò qui dritti Qui dritti Quindi all'incirca dovremmo vederli da qui Qui, giusto Sì, ecco Perfetto, perfetto Speriamo che abbiano nuove offerte Ho sentito dire che comunque ogni tanto portano nuovi prodotti Giustamente Quindi dobbiamo parlare un po' con tutti e vedere un pochino Steph Sì Dobbiamo decidere prima di tutto come vogliamo fare però la casa E tu stai mangiando Ma dimmi te Ti sto parlando di cose importanti Allora, io direi che il classico della casa moderna è il quarzo Esatto Ma mi sembra ovvio E poi cambierei tutte quelle di parti di legno mischiate Ok Con dello spruzzo Dai, ci può stare un bel legno scuro Ok, è come vetri però Vetri facciamo Vediamo che cosa hanno un po' Poi scegliamo Dai, vediamo i mercanti Allora Ciao Pietro Ciao Pietro Lo spruzzo ce l'abbiamo E la scorsa volta non c'era quindi una novità Ha aggiunto anche i quadri Lettrapdoor I letti classici di Minecraft Ok E vedo del vetro nero Fere Sia in quadrati sia in pannelli Siccome c'è appunto quello normale o quello nero Io di riprendere quello nero dai Ok, allora Per cambiare un po' Ragioniamo un attimino Letti quanti ne vuoi? Eh, due Costicchiano eh Eh, vabbè ma gli facciamo il letto dai Un bel lettone Ok, ok Due letti Poi quadri? Eh Costano eh Perché sinceramente pensavo Non ci pensare Non ci pensare Vediamo dopo magari per i quadri Dai, dimmi un po' Almeno due li riprendiamo Poi vediamo un pochino È da mettere sul letto Trapdoor all'incirca Quante pensavi? Non so niente dove le vuoi mettere Dove vuoi mettere le trapdoor Fere? 16 vanno bene In ogni caso per io prendere un botto di spruzzo Immagino Tantissimo Tantissimo Ok Ma due stack possono bastare? No perché costicchia eh Secondo me no eh Secondo me no Dici? Oh porca miseria Fai tre Ok Ok Tre stack Allora lasciamo così e vediamo come va Va bene Vetro Eh Contact Oddio Allora blocchi il sicuro ne bastano 16 Ok Perché poi le finestre le voglio riempire col panel Ok Forse il panel Una trentina Non lo so Non ti so fare Guarda ne posso prendere 32 Abbiamo finito i soldi da 5 Quindi per ora ci dobbiamo arrangiare in questo modo per forza di cose Dopodiché 16 di legna io li prendo Ah no beh abbiamo lo spruzzo Quindi no Come non detto No 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 Facciamo tutto di spruzzo Andiamo a vedere Da pop io vorrei Non voglio più vedere legna mischiata come ha fatto lui Guarda aiuto Allora c'è un vaso ma ne posso comprare solo uno Comunque lo prendo Voglio un po' di foglie questa volta Perché secondo me ci stanno bene Qua a casa moderna a me sono sempre piaciute Lo hack leaves Quindi le prendo di proposito Anche un po' di fiori Fere che dici? Sì fai 16 di quelli rossi vai Anche secondo me Sono belli quelli rossi vai Il rosso col bianco secondo me sta benissimo Sì Perfetto E poi abbiamo Alex Il solito furfante che costa lira di Dio Eh guarda il quarto Allora Aspetta Fere Dimmi Sta cercando di fare il furbo Ah Osserva Osserva Lui sta mettendo allo stesso prezzo Le slab Le slab Cioè capito Ci vuole truffare Ci vuole truffare Noi ci compriamo Soltanto i blocchi E dopo di che io con una crafting table Li trasformo in slab Va bene va bene va bene E lui se ne va al diavolo Non dirlo No 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 Mi deve sentire Qua mi voleva truffare Ma che è che poi Steph Non ti vedono più nulla Quante sta che ne devo prendere? Allora Ci sarà sicuramente tutto il tetto Tutte quelle parti esterne Due Bastano sì Mi sembra di sì Ma le che vada faccia avanti e ritorno Bla 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 Come sempre Servirebbe un posto dove cambiare i soldi Perché tipo adesso non vi ho più soldi da 5 Però siamo pieni i soldi di altre cose E quindi ci servirebbe Vabbè chiedi a qualche negoziante Magari te li cambia Dici Chiedi Eh sì Digli scusa il cambio Perché poi devo comprare altre cose Poppi ha il cambio lei Un po' arrabbiata eh Però me li ha cambiati Quindi tutto a posto Ebbè non è bello Farsi cambiare di 5 Antoni Steph Lo so lo so lo so Scusami Poppi Però servirebbe un banchiere Quindi avvisate nel villaggio Che potreste portarlo Perché farebbe comodo Farebbe comodo In ogni caso Fede Io credo che noi possiamo iniziare ad andare Iniziamo a costruire E poi vedo se manca qualcosa Ci penso io Torno qua L'arretamento però Steph Ah hai ragione Aspetta Lasciami un po' di soldi Inizia a fare un po' di lavore E ti spero di essere utile Quando torni Allora io sicuramente Sai che prendo Perché ci sono delle cose nuove Qua gli facciamo un bagnetto E poi anche una mini cucina Ok Però senza esagerare Perché comunque qui le cose costano Assolutamente Piano 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 Assolutamente Ok Io sto iniziano a smantellare Così tu risparmi lavoro Eh Va bene Bravissimo Che bravo Che Steph Tante utile in questo lavoro Ok Arrivo 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 Ok Ok io sto già smantellando tutto Perché tu mi hai lasciato da sola Nei momenti più critici Ovvero tornare alle case Hai ragione Questo è il momento più bruiso Le devo comprare una bussola Con i soldi che guadagnavo Sono un architetto Ma non sono un navigatore Steph Non so come funziona il mondo Mi devo ricordare di comprarle Mi attaccherai il lupo Secondo te Un po' arrabbiato Vabbè Ecco ti Mi hai trovato? Sì Perfetto Sto sondando già un sacco di muri Adesso mi metto Un attimino a fare la crafting table La appoggiamo qui da qualche parte Cosa ho di tanto? Questa? Vai facciamo così Allora Inizio a darmi qualche blocco Ok Allora ti inizio ad Un po' di quarzo Ok Ti do anche i vetri E un po' di spruzzo Ok Perfetto Io non vorrei dire Ma sta venendo da dio Fere Sto diventando bellissimo Hai visto che si trattava poi solo Di cambiare i blocchi Perché comunque la forma è bella Abbiamo ascoltato il Drake qua Stavolta Fere Di solito li mandiamo via Per vederla l'ultimo Agli occhiali da sole Ascolta Mandiamolo via Sicura? Sì Pensaci tu Fere lo sai Fai tu il lavoro sporco Dai Drake Io spacco le porte Andiamo al mercato Che ti porto a vedere Una bella cosa Ma gli do un calcio Lo butto in un burrone Poverino Ok Povero 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 Fere ti dovevo chiedere In un balcone L'hai sistemato? Cosa? Drake Sì Si è andato via Non è che l'ho sistemato Cioè Quindi l'hai sistemato Del legno diverso Lo devo togliere? Ah sì No ti ho detto che deve Diventare tutto spruzzo Fere Io faccio domande Perché sennò poi mi inserisci Allora visto che ci sono Qua bisogna togliere anche Le fence Sì le fence Perché voglio fare i balconi di vetro Oh Proprio stramoderni Stef Ok E anche qui che c'è un enorme buco Infatti eccolo qua Io direi Ripara Esatto Io capisco che può voler guardare le stelle Ma non si può vivere con un buco in casa Cioè quando piove Adesso le puoi vedere Vieni Ah è fatto di vetro? Abbiamo messo il vetro Aspetta che venga a vedere un attimo Certo Comunque era un suo desiderio Credo Perché se c'è Fammi vedere Suppongo che volesse vedere le stelle Eh sì Le può vedere Ma non potete mettere Ah no Beh sì 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 Niente 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 Bellino 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 Ci sta Non mi criticare Scusa scusa Le idee sono tutte mie Non hai messo manco un'idea Quindi stai zitta Oh guarda che sto lavorando bene stavolta Allora anche qua Stiamo andando velocissimi Perché Stef sta migliorando Qua ci sono le scale Sì Quindi io voglio rompere Qua Lasciamola fare Lasciamola fare Tanto lo sapete In vera è artistica Ok ok Bisogna lascerla fare Fere Dimmi Qui quindi bisogna mettere i panel Sì guarda Ok Togliti Guarda che bello Guarda che bello effetto Entrambi i balconi Altro che le fence Certo Ok allora inizio a distruggere Le fence anche da questa parte Non so se i panel ci basteranno Sono un po' preoccupato Ma credo di sì Sinceramente Guarda che siamo ai limiti Dici Eh sì perché ne vanno messi Insomma qua ci sono anche tutte le finestre Potrebbero non bastare Nel caso vado io a parlare con i mercanti Ehi mercanti Ma qua devi metterlo il vetro No ho fatto un buco Perché qua ci mettiamo i vasi I vasi con i fiori Eh ma io sono un vaso Ne servivano tre vero Eh lo so Tecnico Va bene gli mettiamo uno No Vado a prenderne altri E poi però sai È carino fare tre fiori diversi No vanno bene anche Dai Steph Non è che abbiamo tutti sti soldi Vanno bene anche i fiori normali No vado a prenderli in giro Ascolta Steph Poi fai una cosa Vado a raccogliermi un po' di blocchi di terra Terra? Sì me ne servono Per la precisione otto Ma fai bene Otti blocchi di terra Sì sì sono seria Otti blocchi di terra Steph Che ti serve a terra? Poi lo vedrai Otti blocchi di terra Mi devo fidare? Otto Non te ne ho chiesti Quaranta me li puoi prendere Otto blocchi Accidenti a te Non capisco Sembra che mi vuoi rovinare la casa All'improvviso No vai tranquillo La mia opera d'arte Ma che opera d'arte Non hai fatto nulla Quattro Non hai fatto nulla Cinque Sei Ecco fatto Sette E otto Permesso Uh Belle le porte Ah sto pensando un po' di cose Mi piacciono Mi piacciono Ti sono piaciute le porte? Bellissime Sì sì Sto pensando come posizionare le cose della cucina Sta diventando bellissimo Io penso ai vasi Che almeno quello non devo pensare troppo Basta mettere Esatto Allora mettiamo Uno Due E io pensavo In uno questo Tipo Qua E invece In questo qui Quello giallo Guardate che bellino Ho fatto un ultimo lavoro Ferre dove dovrei mettere i painting? I? I quadri Eh ma quelli quando facciamo la La camera da letto Ah va fatta? Sì Vuoi fare cose belle? Sì Sì Ok allora non metto mano E quindi io cosa faccio Ferre? Sto pensando un attimino Aspetta fammi riflettere Perché sto pensando a come posizionare la cucina E mi sta un attimino distraendo Vabbè iniziamo a me Eh non c'è molto spazio qui eh Però ci possiamo un attimino Arangiare Senza di Steph Allora Una qua La spia dalla finestra Una qua C'è la finestra Oh Mi fa mettere la cucina A gas Qui sopra Ma è proprio bello Ma no Un po' schifo sta roba Ferre Allora praticamente ho il piano cottura Che dovrei riuscire a posizionarlo su qualcosa Però questo qua non funziona Ah forse è questo Prova a darmelo nel caso Magari Steph Può essere utile Vabbè iniziamo a mettere Smettila Steph Iniziamo a mettere questa Guarda che bella La cappa La cappa La cappa giustamente Perfetto Poi direi un mini frigo Qua la cucina comunque deve rimanere molto minimale Perché non può Cioè non può essere enorme Comunque sai Assolutamente Ed eccola pronta Fuoche artificio Ma dove sei Steph? Eh da questa parte Allora Sto facendo il giro della casa Non ti vedo Eccoti 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 Abbiamo messo Allora ti dico già Steph Drake è entrato subito Cioè lui è arrivato Non ho fatto in tempo a fermarlo Che sei finato dentro a casa Penso che stia impazzendo in questo momento Quindi senti delle urle lui Non io Ok Allora Foglie Abbiamo messo fierellini Con della terra Tutto carino Guardate intorno Guardate tutto come bellino 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 E adesso andiamo dentro Da qui si entra con delle porte bellissime Facciamo vedere per prima cosa il bagno La cosa più importante Un bagno piccolo Ma che comunque ci sta Le minime cose indispensabili per un bagno Ciao Steph Ciao Fere Devi guardarmi Poi Qua abbiamo la cucina Molto minimale Ma carina Con tanto di seggiolini Per sedersi Per mangiare Cucinare Per tutto quello che serve Ovviamente il frigorifero Drake qua felice Che fa il pazzo Esatto Salendo sopra Abbiamo tutti i panni così E guarda che bella vista adesso Guarda Io sto guardando la camera da letto Bella vero È molto carina Fere E poi guarda Fere Che bellini che si va Io sono andato a prenderli Io di mia spontanea volontà A mano Eh sì belli E col tricolore più bellino Eh sì Guarda Steph Che cosa? Un altro bellissimo balcone Guarda che bell'effetto Ha troppi balconi Sta casa Per quanto mi riguarda Non servono a nulla Quei tanti balconi Le case moderne Le case moderne Le case moderne hanno un sacco di balconi Un sacco di bella vista E adesso direi che fa il suo bel figurone Tutta in quarzo In legno Spero che tu sia soddisfatto Ci hai lasciato anche parecchi soldi Perché comunque i materiali costavano Ma non troppissimo Non bisogna farsi ingannare dal fatto Che 35 che sembra tanto Sono solo soldi da uno Quindi non è che sia proprio un gran che Adesso controlliamo Vai Ne mettiamo nel portafoglio Eh vediamo un pochettino Quanto è Allora Vieni fuori Stefano Poi gli vedi in faccia Che è un po' brutto Vieni fuori dalla casa Ti sembra che ti metti Lo lasciamo chiuso Essere felice Nella sua nuova casa E noi andiamo qui fuori Guarda Messa a paragone Ok Abbiamo gorgonato Un pochino in più Rispetto a Colnube Beh ci sta Lui ci ha dato comunque più soldi E ci sta Abbiamo fatto Fai magari un 300 400 soldini in più Non è male Non è male Ovviamente adesso sommiamo tutto Perché mica ci saranno separati Avanti Vorrei sapere quanto abbiamo Dove Fere? Qua Che succede? Vieni 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 Sì 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 Arrivo Arrivo Che c'è? Dimmi che non fa un bel effetto adesso Rispetto a quando l'abbiamo vista Non appena siamo arrivati Dimmi che non fa un bel effetto E poi guarda Si intravera anche quella del noob Sì sì E quindi inizia a capire A popolarsi Che continuano così Fere potremmo dire Di aver conquistato Tutto il mondo Sì esatto Perché abbiamo fatto una città nostra La città di Stef Fere Bisogna pensare a un nome Non è proprio nostra Però noi abbiamo contribuito A farla sviluppare Con questi soldi qua Piano piano Cioè compriamo Ci ricompriamo Tutte le case che abbiamo fatto Oh yeah Sarebbe divertente Sarebbe bello E li struttiamo Esatto